Siamo in Polde, con dei tempi molto vicini, con dei primi 5 o 6 ho visto che siamo in 2 decimi di secondo. Sono riuscito a dare un pistacolo di un decimo secondo e a Polde è veramente una pista veloce e disegnata. Grazie a Ponto Settomato Sport che mi ha messo una pista veramente efficiente. Grazie a Polde, grazie a Polde. Grazie a Polde, grazie a Polde. Abbiamo fatto gara 1, sono partito settimo per una qualifica non perfetta, il solito gran bel giro iniziale, sono uscito secondo e ho fatto metà gara da secondo. Ovviamente anche questa volta un contatto gratuito mi ha buttato fuori a metà gara. e alla fine ho chiuso il settimo nuovamente. Ora partiamo secondo in gara 2 e speriamo di poterci rifare almeno là. Questa è la parte di sottotitolo, è la parte di sottotitolo. A Polde è arrivo a fare nuovamente ai fatti. Molto staggiare. Polde è costretto a sottotitolo, in trattate da rimbo. Questi hanno la parte di sottotitolo. A Polde è piac�ale. Sottotitolo, un giro, un giro. E' piac oggettolo, un giro di sottotitolo, un giro doveNER. E' spettolo fai con la extrazione che si non è piacere, a non è piacere il sottotitolo. Ciao a tutti, siamo qua dopo la prima gara del Mugia Medellamidget Italian Series. Diciamo che essendo la mia prima gara avevo dei dubbi sul tipo di partenza perché ero più abituato a una partenza da fermo, adesso qua partendo quarto invece mi sono trovato molto bene, subito sono sfilato nelle prime posizioni e dopo due giri ero primo, ma per colpa di una penalità sono finito in quinta posizione a fine gara, però devo dire che alla fine sono rimasto soddisfatto perché comunque il tempo è più veloce e la macchina andava molto bene. Mi sono divertito tantissimo e la consiglio a chiunque voglia iniziare col mondo del motosport. Abbiamo finito adesso da poco la seconda gara qui a Mugello. Questa è andata decisamente meglio, sono riuscito a partire dalla quarta posizione, ho mantenuto la posizione sui miei avversari, mi ha passato solo mal vestiti ma dopo sono riuscito a passare un altro pilota. Abbiamo preso un buon vantaggio, stavamo in tempi molto vicini quindi nessuno aveva la possibilità di andarsene. Abbiamo preso un buon vantaggio, stavamo in tempi molto vicino. Abbiamo preso un buon vantaggio, stavamo in tempi molto vicino. E' successo per Alberto Cola, salutato dall'Inno Nazionale della Repubblica Italiana.